No, 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 no! Sì, mi sono rasato i capelli, ma non è questo il focus del video. Lo so che non è una cosa proprio carina da vedere, però forse un po' meglio di quello che starà per apparire sui vostri schermi lo è. Ciao Salvatore, ci sei mancato tantissimo durante queste vacanze. Bentornati a questo nuovo appuntamento dedicato alla vita e la carriera del calciatore più brutto della storia dell'umanità. Dopo aver conquistato il triplete con la maglia della Juventus, portandosi a casa Coppa Italia, Campionato e Champions League, il nostro Totò si era messo in un'ottima posizione per vincere il pallone d'oro del 2020, che tuttavia dopo l'Europea con l'Italia sembra essere un pochettino più distante. Pertanto con l'inizio della nuova stagione il nostro Totò dovrà tornare più carico che mai e più in forma di quanto non lo sia mai stato. Prima di continuare con il video però vi voglio ricordare che tutti quanti i giorni tranne il sabato sono in live sul mio canale Twitch a partire dalle ore 7, e in particolar modo questa sera, sempre a partire dalle ore 7, sarò in live proprio su PES 2020 per giocare con la controparte di Salvatore Rosa Spruzzi, con Donio Verde Secco. Il link lo trovate sia all'interno della descrizione che nel commento pinato in alto insieme a quello del mio shop ufficiale, nel quale sono disponibili un sacco di maglie, felpe, t-shirt e stickers per tutti quanti gli eroi veri, e adesso è finalmente giunto il momento di scoprire in quale squadra il nostro Salvatore Rosa Spruzzi giocherà la prossima stagione. Ieri mattina ho pubblicato un sondaggio sul tab community di YouTube in cui vi chiedevo dove far proseguire la carriera a Salvatore Rosa Spruzzi, e la stragrande maggioranza di voi ha votato per la Premier League, un campionato che aveva già conosciuto ai tempi dell'Arsenal ma che non aveva completamente dominato, anche perché Wenger lo schierava come terzino sinistro, non chiedete perché. Mi mancherà vedere quell'orribile essere in bianco-nero accanto Cristiano Ronaldo e Paolino Di Bala, ma è piuttosto evidente che fosse giunto il momento di separarsi da loro. Il discorso è che adesso dovremo scegliere in quale squadra andare a giocare, e non tutte quante le squadre inglesi andranno bene, perché per poter vincere il pallone d'oro il nostro Salvatore Rosa Spruzzi ha bisogno di giocare alla Champions League. Quindi in questo momento andremo a scoprire insieme quali squadre della Premier si sono qualificate in Champions League. Come non detto ci sono ancora i preliminari, pertanto dovremo aspettare un pochettino e simulare qualche partita. Sono arrivato fino all'11 di agosto ma ancora non hanno giocato i preliminari di Champions, e nel frattempo è apparsa la Supercoppa Europea che la Juventus dovrebbe giocare contro la Lazio. E siccome la Supercoppa Europea è un trofeo importante, quasi quasi andrei a giocarlo lo stesso. Prima di scendere in campo vorrei però vedere quali potrebbero essere le potenziali squadre future di Salvatore Rosa Spruzzi. Arsenal, Liverpool, Manchester City e Tottenham che al momento è i preliminari. E tra queste squadre, escludendo l'Arsenal perché ci ho già giocato, sarei molto indeciso tra tutte e tre. Ciascuna di queste è un'opzione valida per un motivo o per l'altro. Ok, come non detto ho ufficialmente la mia risposta. Se dovessi andare al City toglierai il posto ad Aguero. Nel Tottenham invece toglierai il posto ad Henry Kane, mentre al Liverpool potrei andare a creare un tridente Salah Firmino Rosa Spruzzi. E non perché io voglia cacciare Mané in panchina, bensì perché Mané è stato venduto. Tuttavia del trasferimento ci occuperemo più tardi, perché adesso è giunto il momento di giocare alla Supercoppa contro la Lazio. Per l'ultima volta potremo vedere il tridente Cristiano Ronaldo Douglas Costa Rosa Spruzzi che tanto ci ha fatto impazzire. E soprattutto per l'ultima volta potremo vedere Salvatore Rosa Spruzzi con la casacca bianconera. Codiamoci questa partita e lasciamo un buon ricordo ai tifosi bianconeri. Signori e signori, eccoci qui allo stadio dello Schalke 04, di cui non ricordo il nome mai nella vita. È il Westfalenstadion, vero? Vabbè, non è importante. Ultima partita di Salvatore Rosa Spruzzi con la casacca della Juventus. I tifosi bianconeri ci hanno amato e rispettato sin dal momento in cui siamo arrivati qui. Anche se ancora mi chiedo per quale motivo vi sta la faccia di Totò. Quindi noi li dovremo ripagare tantissimo. Tunnelabastos! Rosa Spruzzi col destro pallone sulla traversa. Raga, Totò è carico. Qua abbiamo voglia di spaccare. Rosa Spruzzi a servire il lungo Cristiano Ronaldo di ritorno per il numero 69. Totò tu per tu con stracoscia! E Totò queste cose non me le puoi sbagliare però. 1-0 Juventus rete di Sami Khedira. Completamente unexpected questo gol e questo marcatore. L'assist di Cristiano Ronaldo che avrebbe potuto tranquillamente servire Totò. Così come Khedira avrebbe potuto farlo. Ma entrambi sono stati degli infami e non hanno voluto dare questa gioia al nostro numero 69. C'è un buco nella difesa della Lazio. Lo vede Douglas Costa. Rosa Spruzzi dal limite col mancino! Raso terra perfetto del numero 69. Che porta così in vantaggio la Juventus. Era già in vantaggio. Stai zitto Tierless. E Rugani che lì ne esultano nonostante sia l'ultima sua apparizione. 2-0 Juve alla fine del primo tempo. Reti di Khedira e Rosa Spruzzi. Stiamo giocando così tanto bene che quasi mi pinto di aver deciso di lasciare la Juve. Douglas Costa, gran scatto sulla destra. Mette in mezzo un buon pallone per la testa di Rosa Spruzzi che colpisce bene! Pallone a campanile che si spegne sul fondo. No, 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 no! Grandi, regà! Bellissimo l'autogol! Che cazzo esultano sti idioti poi! Voglio vedere il replay perché è troppo bello. Rugani anticipa Buffon. Si inciampano a vicenda. Il pallone rotola lentamente in porta. Oh mio Dio, è stato bellissimo. Rosa Spruzzi! Che gol! E saluta così i tifosi bianconeri con una perla devastante! Doppietto per il numero 69. Salvatore! Rosa Spruzzi! Ha segnato uno dei gol più belli quella maglia bianconera proprio nella partita d'addio proprio al novantesimo minuto. E signori, la partita finisce così. 3-1 Juve sulla Lazio con doppietta di Rosa Spruzzi che saluta così nella maniera migliore possibile la tifoseria bianconera. Ciao Totò, grazie mille per tutto quello che hai fatto. 7 e mezzo meritatissimo nella sua ultima partita da giocatore della Juve ma adesso è giunto il momento di salutare i bianconeri, Torino e l'Italia intera per volare in direzione Liverpool. Attenzione laga, colpo di scena. La Juventus ha comprato Gabriel Jesus e quindi adesso si è potenzialmente aperto uno spazio al Manchester City. Oh boy, che cosa faccio nella vita? Andiamo al City da Guardiola o andiamo al Liverpool da Klopp? Ci devo riflettere bene. Devo cercare di capire in quale squadra avrei le migliori possibilità. Ma raga, la Juve quanti giocatori ha comprato? Ma stiamo scherzando? Ha preso Nelson Semedo. Buonaventura, Rose dal Tottenham, Gabriel Jesus dal City e Fabinho dal Liverpool. Contenti voi, contenti tutti. Guardate l'omino di Rose in basso, ha la testa ma non il corpo, lo adoro. Signore e signori, vi annuncio che ho ufficialmente scelto la prossima squadra di Salvatore Rosa Spruzzi. Che sarebbe dovuto essere il Liverpool ma evidentemente non sono interessati a me. Ma per quale motivo, scusate? Sono uno dei migliori giocatori al mondo e non mi volete, siete stupidi? Ma nemmeno il Manchester City ha interessato a me? Cosa sta succedendo? Perché nessuno vuole Totò? Ho capito che è tanto brutto ma non avrei mai detto così tanto brutto. Ma perché non va niente nella mia vita? Mi sono preso un po' di tempo per pensare alla prossima squadra di Salvatore Rosa Spruzzi e sono finalmente giunto a una conclusione. Ho provato ad espandere i miei confini mentali al di fuori della Premier League e la conclusione a cui sono giunto è la seguente. Salvatore Rosa Spruzzi rimarrà alla Juventus. Magari non un'intera stagione. Nel mercato di riparazione vedremo se qualche altra squadra vorrà ospitare il nostro obrobrio. Però intanto ho fatto una serie di test infinita e tutti quanti mi hanno rifiutato. Liverpool, Manchester City, Tottenham, Bayern Monaco, Atletico Madrid, Paris Saint Germain. Insomma non c'era verso di far andare via Totò dalla Juventus. Juventus che tuttavia nel frattempo è cambiata perché sono arrivati un'infinità di nuovi giocatori con il quale il nostro Totò potrebbe divertirsi. Pertanto diamo inizio a questo nuovo campionato che si aprirà con le sfide contro Napoli e Frosinone. Napoli che tra l'altro abbiamo battuto per 3-0 nella Supercoppa Italiana ma adesso è giunto il momento della rivincita nella partita d'esordio di questo campionato. Come sempre lì davanti ci sarà il tridente Ronaldo, Douglas Costa, Rosa Spruzzi e apparentemente nessun nuovo acquisto dei bianconeri giocherà alla prima partita. Mi piace questo mercato funzionale. Signore e signori bentornati all'Allian Stadium di Torino uno stadio in cui sicuramente volevo continuare a giocare non è affatto una soluzione di ripiego perché nessuno voleva acquistare quello proprio dei capelli rosa. In ogni caso credo siano abbastanza contenti i tifosi bianconeri perché continueranno ad avere un attacco stellare al quale mo si è aggiunto pure Gabriel Jesus quindi top. 0-0 alla fine del primo tempo tra Juventus e Napoli una partita priva di emozioni non è successo niente facciamo entrare qualche nuovo giocatore per vedere come se la cava please Gran recupero di palla di Rodrigo Bentancur Cristiano Ronaldo dentro per Totò col Madej What? E innanzitutto cosa è uscito dalla mia bocca? In secondo luogo perché non è tirato di sinistro ma di destro? È per quello che mi sono confuso. 1-0 Juve al cinquantatresimo e cinquantatré secondi e cominciamo alla grandissima questo campionato la quota minima per quest'anno è 70 gol e no non sto esagerando grande azione di bianconeri rosa spruzzinare ti ho portato con Carnezis non era affatto un errore era un cross per Cristiano Ronaldo gran pallone di Totò per Bernardeschi che infila Carnezis con un tiro di prima intenzione primo assi stagionale per Totò che apparentemente ha cambiato un pochettino modus operandi non sarà soltanto un giocatore estremamente egoista cercherà anche l'assist per i compagni anche se per arrivare alla 70 gol in campionato dovrei farne due a partita più o meno per il momento però ci accontenteremo di un gol soltanto 2-0 Juve con reti di Rosa Spruzzi e Federico Bernardeschi ottimo esordio in campionato per i bianconeri nonostante il pessimo primo tempo 7 e mezzo in pagella per Salvatore Rosa Spruzzi e adesso toccherebbe ad un fruginone agguerritissimo che ha battuto per 4-2 il Brescia devo avere paura o cosa u annuncio calciatore dell'anno Europa fa che l'abbia vinto Totò deve averlo vinto Totò è stato fortissimo per tutto l'anno yes Salvatore Rosa Spruzzi vince il premio calciatore dell'anno in Europa oh mio dio non ci voglio credere è finalmente successo oh mio dio ce l'abbiamo fatta anche nelle stagioni che ho fatto con Real Barcellona e chi più ne ha più ne metta non ho mai ottenuto dei risultati simili guardalo che bello che è lì in prima pagina vi giuro raga sono emozionato davvero e questo è anche un buon segnale in vista pallone d'oro uh fatemi vedere i gironi di Champions come sono venuti fuori Arsenal Underlecht e Rangers inevitabilmente siamo costretti a sfidare il passato è incredibile ma andiamo a giocare la seconda partita di campionato contro il Frosinone ancora una volta Cristiano Ronaldo Dugas Costa Rosa Spruzzi lì davanti e finalmente vedremo un nuovo acquisto scendere in campo il buon Nelson Semedo nel ruolo di terzino destro ed eccoci quindi qui allo stadio del Frosinone di cui non ricordo il nome mai nella vita il Benito Stirp eccolo mi è venuto in mente non l'ho affatto googolato no no giocheremo contro una squadra neopromossa che è esordito alla grandissima ma vediamo di riportare le soli pianeta terra con una bella tripletta di Totò e invece arriva il gol di Cristiano Ronaldo colpo di testa su assist di Douglas Costa è stato un normalissimo colpo di testa col difensore che non ha fatto niente grande Capuano continua così e fammi segnare tanti gol oddio assist di Rosa Spruzzi per Cristiano Ronaldo che trova il suo secondo gol della partita al ventiduesimo minuto niente sciù per lui questa volta e Totò che attualmente ha più gol che assist di campionato cosa succede? oh ringraziamo CR7 per il 3-0 Juve al minuto numero 47 con il numero 69 Salvatore Rosa Spruzzi vai e dai perfetto Totò con l'esterno per Cristiano Ronaldo che torna indietro Totò la sciabatta ma batte in controtempo Iacobucci e ne fa 3 per la Juve risultato che permane fino alla fine del primo tempo per come stiamo giocando direi che una tripletta è ancora fattibile basta tirare in porta e non fare assist calcio di punizione dal limite ci prova Totò col tiro a giro che si infila in porta Totò a sua punizione ha segnato Salvatore Rosa Spruzzi al cinquantesimo oh mio dio non ci voglio credere Iacobucci fermo immobile il replay dura anche un cacchio perché è stata super rapida la questione però mio dio cosa sta succedendo oggi madò sotto la traversa il povero Iacobucci non poteva fare nulla signori e signori questa partita si conclude così 0 a 4 Juve sul Frosinone doppiette per Ronaldo e Rosa Spruzzi ed entrambi hanno anche messo a segno un assist questa potrebbe essere una delle coppie d'attacco più dominanti della storia del calcio la palma dei migliori in campo se la becca Cristiano Ronaldo anche se non so in base a quale criterio e per concludere al meglio questo video di Salvatore Rosa Spruzzi andremo a giocare la prima partita di Champions contro i Rangers che dopo essersi rifatti tutta quanta la trafila delle serie minori in Scozia è tornata nella più grande competizione europea diamogli il bentornato come solo noi sappiamo fare ah e anche questa volta non gioca nessuno di nuovi acquisti mi sembra logico e signori è finalmente cominciata la Champions League della stagione 2020-2021 e per la Champions League voglio esagerare voglio segnare 25 gol se non di più e subito abbiamo il primo no perché abbiamo ciccato clamorosamente ottima partenza Bernardeschi tocco per Rosa Spruzzi col mancino dal limite Salvatore Rosa Spruzzi 25 minuti sul cronometro primo gol di Totò nella competizione per quest'anno ovviamente gol che arriva in grande stile con la Juventus che gioca tutto quanto a due tocchi proprio come Maurizio Sarri vuole e che si chiude con un gran bolide del nostro uomo dai capelli rosa gli ingranaggi dei bianconeri sono rodati già da tempo arriverà una caterva di gol quest'anno parola perché sarà Ronaldo di ritorno per Rosa Spruzzi ancora col mancino Totò Rosa Spruzzi che trova quindi la doppietta personale anche se questa volta è più un autogol che altro Totò per Cristiano Cristiano per Totò e Totò in porta è gol assicurato primo tempo che si conclude quindi sul 2-0 con doppietta di Salvatore Rosa Spruzzi hanno la difesa che fa acqua da tutte le parti è il momento buono per approfittarne e farne altri 7 3-7 per Rosa Spruzzi e insacca il pallone alle spalle di Firth e non si è nemmeno dovuto impegnare ha semplicemente controllato il passaggio di Cristiano Ronaldo e l'ha infilato in porta Alexandro io lo farei scendere da lì è tossica quell'area del suo corpo cross pessimo di Desciglio e non mi sarei aspettato nulla di diverso e poi il terzino destro del Rangers che se la controlla dentro la porta che cavolo di autogol stupido si sono fatti la Juventus ha un'autostrada di spazio Cristiano Ronaldo per Rosa Spruzzi a porta vuota il Totò Rosa Spruzzi con il poker 5-0 Juve e questa Champions è partita nel migliore dei modi povero CR7 potevo ben darglielo il gol invece no sono infame e me lo prendo io perché ne voglio tutti io i gol Rosa Spruzzi cerca di fare la torre perché Cristiano Ronaldo che non è nel fuorigioco pallone che passa per Totò al palo il legno colpito da Totò non ci voglio credere e la partita si conclude col 5-0 Juventus poker per Salvatore Rosa Spruzzi e autogol del terzino destro dei Rangers e bacialo sto pallone dai Totò te lo meriti una volta ogni tanto sarebbero potuti essere 5 anche 6 volendo però è andata così e mi va bene lo stesso Rosa Spruzzi che si porta a casa un onestissimo 8,5 e la Champions dei Bianconeri è partita nel miglior modo possibile con una roboantissima vittoria e quindi splendori questo primo appuntamento della nuova stagione di Salvatore Rosa Spruzzi si conclude qui avrei tanto voluto vederlo giocare in un'altra squadra ma nessuna di queste mi voleva giocheremo questi primi 6 mesi con la Juventus dopodiché vedremo dove ci porterà il destino vi aspetto in live questa sera su Twitch c'è Condogno Verde Secco che ci aspetta